Buongiorno, sono Federico Toller e faccio parte di WeScience, il gruppo giovani di Bergamo Scienza. Vi do il benvenuto all'evento di oggi intitolato Spinosauro, il dragone dei fiumi del Cretaceo. Avremo il piacere di avere come ospiti Cristiano del Sasso, Museo di Storia Naturale di Milano. La conferenza sarà moderata da Diego Mattarelli, l'Officina del Planetario di Milano. Vi preghiamo di silenziare i vostri apparecchi elettronici e di partecipare numerosi all'iniziativa di Bergamo Scienza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a quest'ora così presto del mattino, di essere riusciti a farci un po' di compagnia in questa conferenza. Per me è un piacere avere qui Cristiano del Sasso e moderare la sua conferenza. Ormai ci conosciamo da tantissimi anni, tanto che anch'io insieme a lui sono andato a scavare appunto queste ossa un po' particolari che abbiamo trovato poi insieme, che ci hanno fatto cambiare un pochino le idee su quello che era la conoscenza di questo dinosauro. A proposito di dinosauri, vorrei proprio iniziare con questo, cioè che cos'è un dinosauro? Magari molti di voi lo sanno, però quando si parla di dinosauri molto spesso quello che viene in mente è tutti quei rettili che c'erano nel Mesozoico, quindi nell'era Mesozoica. In realtà non è così, ok? Diciamo che i dinosauri sono un piccolo gruppo di quelli che erano i rettili presenti nel Mesozoico, quindi nell'era Mesozoica. E quali sono questi rettili? Beh, sono solo i rettili terrestri che hanno però una caratteristica particolare, cioè sono quei rettili terrestri che hanno le zampe colonnari, cioè dritte, quindi non aperte così come i coccodrilli di oggi o le tartarughe o le lucertole, no, dritte come le nostre, cioè guardando un dinosauro dal davanti le vediamo dritte, ok? E a proposito di questo abbiamo una slide, eccola qui, quindi abbiamo detto che sono solo rettili terrestri e quindi dobbiamo togliere i rettili volanti, cioè gli pterosauri o i rettili marini e rimangono, come dicevamo, i rettili terrestri, ma di questi appunto non tutti possono essere considerati dinosauri perché se andiamo a vedere questo rettile che vedete qua, che è un dimetrodonte, lui le zampe ce le aveva aperte e quindi non lo possiamo considerare un dinosauro, mentre tutti gli altri che vedete dal triceratopo piuttosto che gli adrosauri, i sauropodi, eccetera, loro sì, o i tirannosauri ovviamente. Allora, noi per oggi qui non siamo qui per raccontare in generale la storia dei dinosauri, ma dobbiamo raccontare la storia di un dinosauro in particolare, che è lo spinosauro, ok? Dinosauro a cui abbiamo partecipato appunto a degli scavi, ma la storia di questo dinosauro inizia un bel po' di tempo fa, circa 110 anni fa, arrotondiamo, ok? Stiamo parlando di un dinosauro che è vissuto nel Cretacico, ok? Quindi l'ultimo periodo dell'era mesozoica, quindi quello che è iniziato circa 145 milioni di anni fa ed è terminato 66 milioni di anni fa e come vedete in questo periodo i dinosauri erano già abbastanza diversificati, ok? Spinosauro è uno dei tanti dinosauri dotati di vela sulla schiena, poi vedremo che ha delle caratteristiche particolari rispetto agli altri spinosauridi, quindi della sua famiglia, ok? E mi raccomando, stiamo parlando di un periodo del Cretacico, magari molti di voi l'hanno sentito nominare Cretaceo, adesso bisogna dire Cretacico, adesso, giusto Cristiano? Mi confermi? Perfetto. Ok, adesso bisogna dire così. Il Cretacico è un periodo, l'ultimo periodo dell'era mesozoica che è composta da tre periodi, che è il Triassico, il Giurassico e il Cretacico, appunto. Mi raccomando, il Triassico, il Giurassico e il Cretacico sono periodi, non sono ere, l'era è mesozoica, se no, se scambiassimo i termini sarebbe come dire che i minuti sono fatte da 60 ore e questa cosa non funziona, ok? Quindi, purtroppo nella paleontologia ci sono delle terminologie che devono essere utilizzate. Io sono capitato, sono inciampato nella paleontologia tra virgolette perché io sono in realtà un geologo, come direbbe il buon Luca Perri, io sono un lecca sassi, giusto per nominare Luca, lui è un astrocoso, ma va bene, siamo amici comunque. Dicevo, la storia di questo dinosauro inizia più di 110 anni fa, ok? quando un paleontologo tedesco andò a fare un giro all'inizio, diciamo nel Maghreb, in particolare andò in Egitto. Questa è la situazione del nostro pianeta circa 90-94 milioni di anni fa, ok? Dove potete vedere che la parte nord dell'Africa, ma così come molte altre parti del nostro pianeta, sono molto diverse da quelle di oggi, ok? Anzi, concentriamoci sulla parte del Kem Kem, cioè la parte nord-africana, in cui si vede che di terreno ce n'è ben poco rispetto a quello che c'è oggi. Oggi c'è un deserto. In realtà in quel periodo c'era un sistema fluviale estremamente importante. Poi avremo modo di parlarne meglio di questa cosa, ok? Però vi dicevo, la storia inizia quasi cento anni fa proprio per questo uomo che vedete qua, Ernst Stromer. Ernst Stromer nel 1910 ha fatto una spedizione in Egitto, in particolare a Baharia, ok? Dove ha recuperato diverse ossa, tantissime ossa, non solo di dinosauri, anche di altri animali e li ha portati poi a casa, diciamo così, perché allora ancora si potevano portare via resti di vertebrati dal Marocco. Oggi questa cosa non è più possibile. E dove li ha portati? Beh, li ha portati, anche grazie ai reperti ritrovati da Richard Markgraf negli anni successivi, li ha portati al Museo di Monaco, dove sono stati esposti. Questi che vedete sono i materiali che lui aveva trovato. Quindi aveva trovato queste vertebre particolari formate, cioè che avevano queste strane spine molto molto lunghe in alcuni casi, una parte di una mandibola e alcuni denti. Ha cercato di ricostruire questo dinosauro e per farlo l'ha ricostruito basandosi sugli altri dinosauri che si conoscevano in quel periodo. Quindi qui vedete i disegni fatti da Stromer che sono l'unica cosa che ci rimane di questi materiali, ok? E vi dicevo l'ha ricostruito basandosi un pochino su quelle che erano gli altri dinosauri. Quindi lo Spinosaurus egyptiacus, nome che prende appunto rettile con le spine proveniente dall'Egitto, prende questa strana forma, quindi una sorta di tirannosauro con una vela sulla schiena. Oggi le cose sono un pochino cambiate ma a questo ci arriveremo. Purtroppo però, come vi dicevo, i disegni di Stromer sono l'unica cosa che ci rimane di questo dinosauro perché purtroppo nel 1944 Stromer aveva cercato di convincere il direttore del Museo di Monaco di tirar via i reperti, soprattutto quelli più importanti, tra cui anche il suo dinosauro, dal museo perché appunto c'era la guerra, ma l'allora direttore aveva detto qui non ci bombarderanno mai, distrutto il Museo di Monaco. Tutte le ossa ritrovate da Stromer sono andate purtroppo perse, sono andate in cenere e quindi appunto di loro ci restano soltanto i disegni. Ma a questo punto, visto che vi ho introdotto un pochino la storia, passo la parola a Cristiano Dalsasso che comincia a raccontarci qualcosa proprio sull'oggetto che c'è qui davanti a noi. Grazie Diego. Grazie. Lo tampiniamo tra poco di nuovo perché lui è veramente dentro questo progetto che è un progetto molto italiano, vedrete altre persone che collaborano con noi e quindi anche in anni recenti, soprattutto in anni recenti, si è costituito un team di ricerca che sta estraendo lo scheletro più completo al mondo che si conosca di Spinosaurus. Ed è importante questo proprio perché, come vi raccontava Diego, l'olotipo, cioè l'esemplare su cui era stata creata la carta d'identità dell'animale Spinosaurus, Egiptiacus, è andato perduto e quindi il punto di riferimento più importante per la classificazione e lo studio di questo dinosauro bizzarro era stato perduto, irrimetiabilmente, perché l'ossa sono andate in cenere al Museo di Monaco di Baviera. Ecco perché quando negli anni successivi finalmente cominciarono ad emergere dai deserti del Nordafrica nuovi resti di Spinosauro divennero particolarmente importanti e soprattutto quello che abbiamo qui davanti. Questo naturalmente è un calco, è una copia perfetta del fossile originale che si trova al Museo di Storia Naturale di Milano. Questo è un reperto cruciale perché ancora oggi è il resto cranico più completo al mondo che si conosca per quanto riguarda gli Spinosauri. È enorme, è lungo 99 centimetri e in realtà è soltanto un naso. Infatti quella che vedete qui non è la cavità degli occhi, non è l'orbita, è la narice che è molto spostata all'indietro rispetto alla posizione che assume nella maggior parte dei dinosauri. E questo già ci fa capire che il cranio degli Spinosauri è molto modificato, è molto allungato. Questo fossile si trovava in una collezione privata italiana ed era stato estratto dai deserti del Marocco prima che il governo marocchino creasse delle leggi più restrittive. Per cui grazie diciamo così al fatto che risale agli anni 70 il Museo di Storia Naturale di Milano lo aveva acquisito già in precedenza ma non era stato studiato in dettaglio, era ancora ricoperto di incrostazioni e quindi non si capiva nemmeno se fosse la parte sopra del muso o la parte sotto. Si tendeva a pensare che fosse la parte sotto perché Stromer, avete visto, aveva trovato una mandibola, un pezzo di mandibola con dei denti conici molto spaziati, molto simili a questo e con una parte anteriore molto allungata. In realtà questo muso, studiato più in dettaglio, abbiamo capito che si incastrava perfettamente nella forma della mandibola di Stromer che vedete qui in nero in basso, giustamente nella parte inferiore della bocca. Ebbene, il cranio di Milano, così come viene chiamato ormai dai paleontologi di tutto il mondo, indica un esemplare gigantesco, cioè un animale che da adulto, secondo i calcoli che facemmo io e altri colleghi nel 2005, poteva forse superare anche le dimensioni di un T-rex e quindi avrebbe, come dire, preso il podio del dinosauro predatore più grande del mondo. Un dinosauro predatore però che non si cibava di carne di animali di terraferma. Questo come facciamo a saperlo? Perché avevamo notato subito già nel 2005 delle forti somiglianze con l'anatomia dei coccodrilli. Guardate come si incastrano bene questi denti, che sono denti conici, quindi denti non piatti e seghettati come quelli dei dinosauri carnivori, sono denti che sembrano fatti per trattenere prede scivolose, cioè in sostanza, per esempio, grossi pesci. Questo è emerso sempre di più man mano che studiavamo questo fossile. Facendo i confronti, appunto, con anche delle animazioni come in questo caso con la mandibola di Stromer, abbiamo notato che c'era questo meccanismo nella bocca di Spinosauro che creava un incastro perfetto quando la bocca si serrava. Le narici arretrate erano un altro segno che questo dinosauro aveva sviluppato adattamenti particolari. E se lo confrontiamo con un cranio di T-Rex vediamo una grandissima differenza. Questo non è un cranio fatto per lavorare sulla potenza, ma per lavorare di precisione. Nella cattura di prede quindi anche veloci. Ebbene, però, tutto il resto dello scheletro era ancora sconosciuto. E questo era un paradosso perché nel frattempo Steven Spielberg aveva incorporato nel secondo Jurassic Park uno Spinosauro e l'aveva fatto di proporzioni bizzarre, certamente, ma inadeguate rispetto a quello che sospettavamo noi paleontologi. Gli aveva fatto una testa che assomigliava di più a quella di un Baryonyx che è un parente dello Spinosauro, ma è un suo antenato dell'inizio del Cretaceo. E questo noi, cioè paradossalmente, dicevo, lo Spinosauro a un certo punto è diventato più conosciuto da parte del pubblico generico, della gente, che dei paleontologi, perché noi paleontologi non potevamo ancora spiegare a chi faceva film o documentari sugli Spinosauri come erano davvero fatti. Mancavano di nuovo tutte le ossa del resto del corpo. Questa situazione, in modo molto clamoroso e inaspettato, cambia a partire dal 2008, quando un geologo italiano, in viaggio in Marocco, trova e fotografa, questa è la sua fotografia originale delle ossa, delle vertebre con spine molto allungate. Questa fotografia è arrivata sul mio computer in una e-mail nel 2008 ed è stata la prima volta che io ho visto delle ossa di Spinosauro a colori, perché quelle precedenti, avete visto, erano o nelle tavole disegnate oppure nelle fotografie sbiadite del Museo di Monaco. Ebbene, queste ossa poi a un certo punto il geologo ce le porta a Milano perché vuole capire che cosa sono e noi, confrontandole con le ossa pubblicate da Stromer, diciamo, io e Simone Maganucco qui in fotografia, diciamo, diamo conferma, queste sono ossa di Spinosauro, sarebbe importantissimo trovare da dove vengono. Ma il geologo ci dice, me le ha date un beduino, io non so l'arabo, questo beduino aveva il turbante e i baffi, a noi viene un po' da ridere perché sappiamo, gironzolando un po' per quelle zone, che tutti gli uomini maschi adulti, quasi tutti, il 90%, Diego, è così. Come facciamo a ritrovare questo posto? Perché sto beduino ha trovato e ha scavato delle ossa, le ha messe insieme e il geologo, per fortuna per salvarle, gliele ha prese tutte in blocco, evitando che venissero vendute sulle bancarelle un osso alla volta, disperdendo quello che sembrava essere uno scheletro di un unico individuo, di un unico animale. Perché il beduino diceva, l'ho trovato in un posto solo, su una collina, ma questo ve lo dico io perché dopo abbiamo conosciuto il beduino, l'ho anticipato, insomma, perché la situazione in realtà è più complicata. Perché questo beduino alcune ossa le aveva date ad altre persone. E questo lo scoprimmo anche qui quasi per caso durante un convegno di paleontologi in Inghilterra. Incontrammo un paleontologo tedesco marocchino che si chiama Nizar Ibrahim, che mostrò a me e al collega Maganucco delle fotografie di piccoli pezzi di roccia con all'interno delle ossa che assomigliavano, anzi erano direi identiche ad alcune di quelle che aveva recuperato il geologo italiano. E in particolare c'erano delle ossa piatte, stranissime, viste in sezione, che mostravano una linea mediana molto scura. Cos'erano queste ossa? Non ne eravamo certi perché erano dei frammenti piccolissimi. invitammo questo collega Nizar Ibrahim, che parla l'arabo, e questo è importantissimo nella nostra storia, a Milano, per vedere quelle poche ossa che ci aveva portato il geologo. E lui confermò che non solo il colore delle ossa combaciava con quelle che aveva recuperato lui dallo stesso beduino. Ma anche le concrezioni che inglobavano le ossa avevano la stessa colorazione, quindi probabilmente, voleva dire che probabilmente queste ossa venivano dallo stesso strato, dello stesso luogo, della stessa collina, ma in mezzo al deserto del Sahara. Immaginatevi voi come si fa a trovare un posto così, senza ulteriori indicazioni. Decidiamo di unire le forze. Quindi italiani, marocchini, inglesi e anche americani, grazie ad una sponsorizzazione di National Geographic, cominciano ad indagare. In particolare, Ibrahim va in Marocco per diverse settimane a cercare questo beduino. Lui si ricordava il viso di questa persona, però, come ripeto, nascosto dai baffi e dal turbante, era molto difficile riconoscere quella faccia. Per due o tre settimane Ibrahim cerca il beduino dappertutto nei dintorni di Erfud, che è la cittadina dove vivono la maggior parte delle persone che trovano fossili di dinosauri, in Marocco, quindi vicino al confine con l'Algeria, e non lo trova. Sconsolato e ormai senza più speranza, questo ce l'ha raccontato benissimo, ed è incorporato all'interno di un documentario di National Geographic. Quindi quello che vi sto raccontando è una storia vera, verissima. Sconsolato Ibrahim si siede al tavolo di un bar che ora noi conosciamo benissimo perché è diventato un luogo sacro, praticamente luogo di pellegrinaggio, possiamo dire, dove si ricelebra questa storia incredibile, e vede passare a piedi, sul marciapiede, l'ultimo giorno disponibile di tempo, quell'uomo coi baffi. Ed eccolo qui. Lo convince con fatica a portarci sul luogo dove ha trovato quelle ossa e organizzata una spedizione, io non è che ero lì, ero a Milano a fare la mia parte di lavoro, anche su altri fossili, ma praticamente quando poi ci racconta che trova questo beduino, organizziamo subito una spedizione e il beduino ci porta su quel pendio che vedete alle nostre spalle. E lì ci mostra uno scavo in grotta, diciamo, in sostanza essendo da solo con un asino che lo aiutava a trasportare le ossa a valle, aveva trovato lo strato con le ossa che venivano giù dal pendio, quindi lui aveva visto per caso all'inizio delle ossa rotolare, aveva ritrovato il punto nel pendio dove c'era uno strato, un deposito sabbioso di fiume contenente delle ossa fossili, aveva cominciato a scavare in quello strato creando questa nicchia e da lì aveva tirato fuori le ossa che aveva dato un po' all'Università di Casablanca e un po' al geologo italiano. Dopo la prima spedizione noi cominciamo a trovare ossa e cominciamo a trovare i primi frammenti di ossa non negli strati di roccia, ma nel detrito, che vedete bene indicato dal colore rosso che indica rimozione fresca di sabbia, noi ci mettiamo a setacciare il pendio all'inizio, quindi facciamo una specie di ricerca archeologica in quello che poi diventa uno scavo paleontologico, perché cominciamo a cercare le tracce di quello che ha fatto il beduino e lì troviamo frammenti che o si è dimenticato o non ha ritenuto importanti e quei frammenti diventeranno importantissimi perché poi combaceranno con le ossa che stavano sia a Casablanca che a Milano. Qui vedete, guardiamo tutto, ogni piccolo frammento e tra il detrito del pendio cominciamo a trovare anche denti, ma non denti isolati nella sabbia, sono denti che, come in questa fotografia, sono attaccati a pezzi di osso, vuol dire che venivano dalla bocca del dinosauro. I dinosauri perdevano spesso denti durante la vita, per cui si trovano tantissimi denti sparsi, i denti ricrescevano, quindi un dinosauro poteva produrre centinaia di denti durante la sua vita che potevano diventare fossili, per questo che si trovano più denti che scheletri, soprattutto degli spinosauri. Questo ci faceva capire che, ahimè, una parte della testa era già rotolata giù e macinata. Non disperiamo di trovare, abbiamo trovato frammenti di cranio, ma non pezzi così completi, di quell'esemplare, perché attenzione, l'animale di cui sto parlando qui nelle slide dello scavo non è lo stesso individuo, ok? È un individuo più giovane, più piccolo, relativamente più piccolo, di circa 11 metri. Troviamo, setacciando la sabbia, pezzi di ossa piatte e allungate, sono pezzi di spine neurali, cioè di spine del dorso. E capiamo finalmente che cos'è quella linea scura. Quella linea scura è la parte centrale delle spine allungate sulla schiena dello spinosauro. e il puzzle comincia a completarsi. Ci sono entrambi gli arti posteriori, ci sono vertebre dell'inizio della coda, poche, pochissime, troppo poche. Per il momento. Per il momento. E poi però cominciamo a vedere che qui ci sono già delle proporzioni strane, cioè già in questa fotografia notate delle vertebre molto grosse rispetto ad una gamba relativamente corta, che però ha un piede grande, un piede da papera. Ma cos'è sto dinosauro? È tutto diverso da tutti gli altri teropodi che sono i bipedi carnivori. E nel piede, qui lo vediamo benissimo, le ossa sono piatte e allargate. Qui davanti a noi abbiamo un calco ridotto al 50% di dimensioni di questo piede che vedete in fotografia, perché questo qui è stato stampato da una stampante 3D e quindi possiamo oggi con queste tecniche moderne decidere anche le proporzioni a cui vogliamo riprodurre delle ossa fossili. È un piede largo con anche questo primo dito molto molto allungato e con falangi piatte che ricordano un po' le falangi dei fenicotteri e delle anatre. Non è un caso. Siccome al momento abbiamo ancora poche ossa nel 2010-12, portiamo tutte queste ossa ritrovate finora in Marocco con un accordo internazionale che prevede che poi queste ossa vengano restituiti al paese di origine, cioè Marocco, questa cosa è stata fortemente voluta da me e dal Museo di Milano e sono orgoglioso di aver fatto questo progetto internazionale che ha anche un significato educativo, sociale molto importante, perché pensate, in Marocco è pieno di fossili ma non c'è un museo nazionale o universitario dove poter mettere questi fossili. Quindi le portiamo temporaneamente a Chicago dove il paleontologo Paul Sereno che ha i soldi di National Geographic ci aiuta in questo progetto costoso a studiare quelle ossa e per confronto usiamo anche le ossa di Sukho Mimus che è uno spinosauride scavato da Paul Sereno e depositato a Chicago, scavato nel Niger che ci aiuta a capire com'è fatto un po' lo scheletro di uno spinosauride in realtà poi vedremo che ci ha aiutato un po' ma non completamente e usiamo anche il cranio di Irritator che è uno spinosauride trovato in Brasile perché la parte posteriore del cranio non è conservata nemmeno del muso di Milano e abbiamo invece bisogno di confronti per capire com'era fatto la cavità cranica lo spazio del cervello eccetera combinando tutte queste informazioni cominciamo a costruire un modello digitale e decidiamo che questo modello digitale avrà le proporzioni del muso di Milano perché vogliamo ricostruire uno spinosauro adulto e capire quanto è grande mettiamo insieme digitalmente anche le ossa di Stromer cominciamo a ricostruire un cranio e cominciamo a ricostruire anche tutto il resto del corpo anche grazie a vertebre trovate altrove e conservate in musei canadesi nordamericani mettiamo insieme tutto questo puzzle ricomponendo e ricostruendo in digitale anche i pezzettini mancanti alla fine otteniamo un modello tridimensionale che diventerà per la prima volta nella storia della paleontologia uno scheletro completo di dinosauro stampato in 3D e questo viene fatto in Canada da una società specializzata in modelli e lo spinosauro che salta fuori è lungo 15 metri a arti anteriori che ancora poco conosciamo ma molto allungati dotati di artigli giganteschi se vuoi mostrarlo Diego questo non è una invenzione ma è questo è un calco di un artiglio che è stato ovviamente rinvenuto e questo ci fa vedere la dimensione di questi artigli ma soprattutto dovete pensare che da vivo sarebbero stati molto più lunghi perché erano ricoperti da una guaina quindi questo è solo l'osso che c'è dentro l'artiglio quindi in realtà molto più grandi una guaina di cheratina come nelle unghie come le unghie umane nostre di oggi e qui vedete che queste zampe anteriori dovevano servire per qualcosa di importante poi ne riparliamo insomma alla fine però con questo scheletto stampato National Geographic riesce ad organizzare una mostra cioè gliela costruiamo noi intorno sulla storia della scoperta sulle ossa perdute di Stromer e in contemporanea all'inaugurazione della mostra a Washington nel 2014 pubblichiamo un articolo che spacca il mondo no ma veramente perché è stato chiaramente poi su Science che è una rivista scientifica molto importante diciamo la sfidante di Nature negli Stati Uniti è Science e salta fuori un animale che è un drago un mosaico di caratteristiche bizzarre per quello che abbiamo chiamato questa presentazione il dragone del Cretacico perché c'è questo muso testa e muso quasi da coccodrillo collo allungatissimo narici arretrate che fanno pensare al fatto che queste narici fossero indietro per continuare a respirare in certe condizioni una vela sulla schiena che non si capisce bene a cosa servisse formata da ossa se vogliamo anche delicate se questo animale cade se le potrebbe spaccare questa è una delle cose su cui stiamo discutendo ancora oggi e poi questi piedi da papera ma zampe posteriori ridotte rispetto all'arresto dell'animale tant'è vero che anche il bacino è un po' sottodimensionato il bacino nei bipedi sostiene tutto il corpo tutto il peso del corpo come nel nostro quindi vuol dire che questo bacino era usato meno rispetto ad altri dinosauri che stavano sempre sulla sulla diciamo che comincia a vacillare quella che era stata la ricostruzione di di Stromer all'inizio ma assolutamente a vacillare tanto è vero che in questa in questa in questo sketch lo vedete quasi quadrupede lo spinosauro perché c'era un problema di baricentro vedete lì c'è scritto baricentro davanti alle ginocchia se il baricentro di un bipede è tanto davanti alle ginocchia con questa schiena orizzontale l'animale in sostanza tenderebbe a cadere in avanti come fa può essere quadrupede un dinosauro teropode sono tutti bipedi con un artiglio così dove lo mette quell'artiglio per non consumarlo a terra quando cammina ci sono ancora delle incertezze la coda non la conosciamo perché quello che vedete in realtà in azzurro sono tutti pezzi non trovati quindi è stata ipotizzata avevamo quelle vertebre indicate in rosso e in giallo anche qualcuna in verde ma poche poche e molto incomplete e come dicevo spacca soprattutto sto dinosauro sui media perché finalmente poi queste dimensioni di 15 metri fatti da parte T-Rex Sposta di proprio National Geographic nell'edizione inglese 11 milioni di copie questo numero con in copertina uno spinosauro fatto dove Diego? Fatto a Venezia quindi? In Italia questo perché in questo team avevano cominciato ad inserirsi anche dei tasselli importanti per le ricostruzioni museali di carattere scientifico di dinosauri e c'è questa ditta c'era già questa ditta a Venezia per la quale è diventato consulente scientifico Simone Maganucco nostro caro collega con cui abbiamo pubblicato tutti i lavori importanti di Spino e loro hanno fatto uno spinosauro di 15 metri in grandezza naturale National Geographic lo voleva davanti alla propria sede a Washington l'hanno fatto smontabile trasportabile e rimontabile nel giro di una notte per fare quella fotografia che poi è finita in copertina e questo dinosauro a un certo punto però diciamo a National Geographic ragazzi stiamo lavorando tantissimo su questo fossile anche a livello scientifico ci promettete che dopo la mostra di Washington ci fate fare una mostra a Milano perché il 2015 è l'anno di Expo dell'Expo universale e riusciamo ad organizzare questa mostra Palazzo Dugnani che era in realtà la vecchia sede del Museo di Storia Naturale di Milano e questa mostra fa un bellissimo successo soprattutto anche tra il pubblico che ci racconta tramite anche le guide che accompagnano in visita che quella mostra piace insomma con lo scheletro stampato dentro in tutta la sala che occupava davvero la maggior parte della mostra e la ricostruzione fatta a Venezia fuori nel parco nel parco dei giardini montanelli e dentro questa mostra ci sono dei video che spiegano con delle animazioni oggi non abbiamo il tempo di riproporre anche quei video l'importanza di questo muso che parte da una nostra curiosità perché noi siamo un po' maniaci nella nostra pignoleria però la mettiamo a buon fine quando facciamo i paleontologi dove vanno a finire questi fori perché ci sono perché ci sono perché sono così tanti perché sono concentrati sulla punta del muso ebbene scopriamo che nei coccodrilli anche viventi ci sono questi stessi fori nel cranio che quando nell'animale vivo sono coperti anzi sono occupati questi fori sono occupati da dei sensori di pressione sono dei recettori che possiamo paragonare ai sensori di parcheggio delle automobili mi sembra un ottimo esempio mi piaceva molto lo spinosauro doveva evitare di andare contro i muretti quando manovrava certo assolutamente perché se no poi si graffia probabilmente doveva evitare altre cose come per esempio tronchi galleggianti o trovare qualcosa o trovare qualcosa come facciamo a dire tutte queste cose che sembrano una battuta sembra che stiamo giocando ma in realtà è Diego no perché la cosa l'abbiamo studiata e approfondita all'interno del cranio questi fori scusate questi recettori di pressione sono tutti collegati da una rete molto ramificata che appartiene al nervo trigemino quello che sentiamo noi quando ci fanno male i denti però tutti gli animali hanno un nervo trigemino perché è importante per la sensibilità facciale e in particolare nei coccodrilli qui avete visto i tre rami del trigemino ma lasciamo perdere sono tre rami principali il più importante dei quali è quello in verde ed è quello che arriva alla punta del muso come qui per essere sicuri di queste elucubrazioni facciamo un attack a questo cranio che ci offre delle ottime possibilità di riuscita perché è tridimensionale non è deformato è conservato benissimo quindi facendo l'attack qui con 2.400 fette virtuali non lo tagliamo davvero sono delle scansioni ogni 0,3 mm ne facciamo una e mettendo insieme tutta sta roba salta fuori che il muso dello spinosauro ospitava una rete neurovascolare a forma di ferro di cavallo molto ramificata quasi identica a quella dei coccodrilli per i coccodrilli è importantissimo questo sistema neurovascolare perché gli permette di localizzare le prede anche di notte o in acque fangose questo lo hanno determinato delle prove sperimentali hanno preso dei piccoli poveri coccodrillini li hanno messi in un acquario e li hanno hanno ricoperto il loro muso con un nastro adesivo mettendo un pesce nell'acquario i coccodrilli diventavano quasi ciechi togliendo il nastro adesivo dal muso riuscivano a catturare subito il pesce quindi vuol dire che questa specie di questo nervo trigemino super specializzato li guida nella cattura delle prede questo si lega anche alla narice molto arretrata esatto perché la narice poteva il fatto di poter immergere la punta del muso localizzando le prede in acqua con una specie di sonar senza la necessità di immergere tutta la testa poteva permettere allo spinosauro di continuare a respirare con la narice arretrata che è comunque una narice molto in alto quindi anche a pelo d'acqua tutto immerso poteva continuare a respirare e qui noi cominciamo a capire dal muso di Milano dalla forma del naso a coccodrillo dalle zampe piatte larghe cominciamo a capire che lo spinosauro ha tanti adattamenti alla vita nell'acqua non diciamo che è un dinosauro acquatico adesso ce lo stanno contestando ma non l'abbiamo mai detto però come dico sempre io le ossa le abbiamo studiate noi certo ma dopo le ossa all'interno ci riservano una sorpresa che vediamo tra poco ed è quella lì la prova del 9 naturalmente con un artigliaccio così questo dinosauro poteva catturare agire un po' come un grizzly trattenendo dopo averle localizzate con il muso delle prede anche enormi pensate che nei fiumi del nord Africa dove oggi c'è un deserto c'erano c'erano tanti fiumi grandi quasi come il Nilo anche più grandi del Nilo quasi come il rio dell'Amazzoni e in questi fiumi c'erano dei pesci grandi anche come un'automobile quindi lì c'era cibo a disposizione per i predatori però sto anticipando troppo una cosa torniamo alle ossa torniamo alle ossa allora queste qui sono una costola tibia e fibula che sono le ossa della gamba il femore dello stesso animale che abbiamo scavato in Marocco il beduino l'aveva tirato fuori un po' così per cui aveva rotto anche i femori nella frattura dei femori cosa abbiamo visto? quello che si è visto è che mancava un canale all'interno a differenza di quello che troviamo in tantissimi altri dinosauri teropodi e questa cosa collega questo dinosauro ad animali particolari che hanno una caratteristica particolare allora ricordiamo una cosa prima che i dinosauri teropodi sono proprio quel gruppo di dinosauri che ha dato origine agli uccelli non gli spinosauri che sono spaliti tutti alla fine del Cretaceo ma in contemporanea c'erano altri piccoli dinosauri che si chiamano celurosauri che avevano sviluppato pian piano dei preadattamenti non sapendo che sarebbero diventati uccelli si dovrebbe dire exaptation exaptation esatto cioè il preadattamento è una parola che fa pensare che io lo faccio prima perché so che poi mi serve invece come exaptation è qualcosa che c'è è di fuori però poi prenderà una strada diversa da quello per cui si è formato questa caratteristica pensate anche le penne e le piume non sono comparse con la funzione di far volare sono comparse in piccoli dinosauri già dal giurassico e poi nel cretaceo per tenerli caldi perché nel frattempo i dinosauri avevano sviluppato un metabolismo diverso da quello di tutti gli altri rettili e per tenersi caldi avevano sviluppato questo piumino e queste penne sempre più allungate il vantaggio dei dinosauri teropodi era quello di essere bipedi cioè non usavano più gli arti anteriori per camminare li usavano per catturare le prede e questa funzione di cattura è diventata sempre più importante tant'è vero che gli arti anteriori si sono allungati e ad un certo punto gli hanno permesso di spiccare il volo quelle tre dita predatorie degli allosauri e dei veloci raptor ci sono ancora nelle nostre alette di pollo quando ce le andiamo a mangiare nel pollo arrosto o nelle chicken wings che non sono altro che avambracci di teropodi perché lì ci sono le tre dita quando mangiamo il pollo mangiamo un dinosauro assolutamente sì e questa è la strada che hanno preso tutti i dinosauri che sono sopravvissuti all'impatto del meteorite e che volano intorno e sopra di noi gli spinosauri questa è la follia questa è l'eresia degli spinosauri questi qua si sono azzardati ad andare in una direzione tutta opposta ancora più estrema di quella degli uccelli non volatori come il kiwi o di quelli che si immergono in acqua come i pinguini ma proprio dal pinguino impariamo una cosa le ossa lunghe quindi i femori le ossa delle braccia dei pinguini hanno la cavità midollare molto ridotta ed è quella più paragonabile alla condizione dello spinosauro in cui è quasi scomparsa queste ossa sono dunque diventate pesanti nello spinosauro per permettergli di fare una cosa molto particolare secondo noi le usava come i piombi che mettono i nostri i subacquei servivano per immergersi nell'acqua e lì trovava prede che non potevano sfruttare gli altri dinosauri predatori perché stavano fuori dall'acqua e quindi qui siamo all'enigma il cosiddetto enigma di Stromer che se vuoi puoi spiegare Diego praticamente nelle condizioni di allora del Cretacico del Nord Africa la quantità di dinosauri carnivori era importante c'erano gli spinosauri carcarodontosauri c'erano i deltadromeus i rugops quindi tanti dinosauri però sulla terraferma però non c'erano altrettante prede per questi dinosauri e quindi Stromer si è posto questo problema diceva com'è possibile che ci sono così tanti carnivori e così poche prede a disposizione poche tra virgolette ovviamente però già prendendo lo spinosauro e cambiandogli completamente quello che è l'ambiente di caccia le cose hanno cominciato a bilanciarsi quindi mettere lo spinosauro nell'acqua voleva dire dargli altri tipi di prede a cui lui poteva tranquillamente tranquillamente cacciare appunto come abbiamo già detto i suoi denti conici erano perfetti per prede scivolose come i pesci e quindi abbiamo tolto uno dei grandi predatori qui ne vediamo alcuni eccoli qua uno dei forse il più grande predatore presente l'abbiamo preso l'abbiamo spostato l'abbiamo messo nell'acqua e questo ha cominciato a bilanciare un pochino quello che era il rapporto prede predatori anche perché fuori dall'acqua c'erano i predatori non erano alcuni no no c'erano i carcorodontosauri che insomma sono quelli che vengono chiamati i t-rex africani da alcuni quindi stiamo parlando di dinosauri di una certa dimensione di una certa capacità predatoria non indifferente poi gli abelisauri vediamo qui gli abelisauri eccetera eccetera ok allora ritorniamo indietro un attimo perché adesso cominciamo a domandarci visto che lo spinosauro ha questa vita semiacquatica questa vela qui a cosa possa servire allora ci sono state tante ipotesi sull'utilizzo della vela addirittura si è pensato che all'inizio non fosse una vela ma un deposito di grasso oppure un qualcosa che potesse essere utilizzato per esempio per gli scambi di calore ok in realtà poi trovando queste ossa perché alla fine quello che si faceva era studiare lo spinosauro sui disegni di Stromer quindi non avendo le sezioni vere e proprie delle ossa ma trovando questi tipi di ossa si è visto che la parte più scura in realtà è la parte in cui passava il sangue e quindi era troppo poca troppo piccola e troppo interna per poter essere definita davvero un qualcosa che potesse aiutare l'animale a scambiare il calore scusami correggimi se sbaglio vuoi dire che il sangue che circolava all'interno dell'osso non essendo in superficie non poteva essere non riusciva a scaldarsi così bene come magari quella di altri dinosauri dotati di vela quindi non era il sangue che irrorava la pelle ma era il sangue che nutriva la spina durante la crescita esatto in più quello che si è visto è che la struttura superficiale delle spine era fondamentalmente cioè ci permetteva di dire che era rivestita da pelle e non più da un deposito di grasso quindi questo ha fatto cambiare un pochino l'idea e allora questa vela cosa poteva servire beh probabilmente questa vela serviva a far vedere questo dinosauro più grande di quello che era più importante magari addirittura anche nella conquista per esempio della femmina poteva essere utilizzata così come la piccola crestina che ha sulla testa quindi oltretutto quando spinosauro stava in acqua la vela stava fuori quindi era molto visibile l'animale se non si immergeva completamente e quindi poteva anche essere una una sorta di monito per dire guarda che io sono qui questo è il mio ambiente di caccia tu stai a casa tua quindi potremmo quasi definire anche una cosa del genere per l'utilizzo della vela sì io avevo anche un'altra ipotesi che abbiamo un po' raccontato in giro poi qualche altro collega l'ha pubblicata anzi no l'abbiamo vista in alcuni documentari io l'avevo raccontata a quelli di Discovery Channel e poi hanno fatto una scena dove si vede lo spinosauro che messo di traverso rispetto al sole fa ombra nell'acqua fa ombra nell'acqua e questo perché io avevo visto nello cavango e nei documentari che ci sono alcuni aironi che allargano le ali ad ombrello torniamo al discorso dell'exaptation utilizzarle per nascondere per fare ombra e far arrivare i pesci i pesci ma la verità sai qual è Diego che questa cresta qua secondo noi secondo me ma secondo coloro che studiano biologia anatomia comparata questa cresta doveva avere doveva essere multi purpose cioè servire a tante cose sicuramente a tante altre cose non solo perché quando un animale spende tante delle proprie energie per costruire una struttura del suo corpo voluminosa e se vogliamo anche ingombrante molto ingombrante gli serve per tante cose i cervi giganti soprattutto quegli estinti che avevano 4 metri di palchi le usavano tantissimo per attirare le femmine se pensiamo che la spina più lunga della vela sono 2 metri e 20 quindi stiamo parlando di una vela estremamente grande quindi non una piccola cosina sì e poi vedete che sono state sviluppate da tanti animali nel passato nella storia della vita animali che non sono per nulla parenti ma che hanno nel corso dell'evoluzione del loro gruppo ogni tanto hanno fatto comparire delle vele dorsali quindi può darsi che servissero per funzioni simili o anche diverse a seconda dei gruppi ma comunque che fossero importanti un'altra idea nostra è che stando molto in acqua lo spinosauro la potesse usare come chiglia inversa come deriva per evitare il rollino come le barche che hanno sotto la chiglia per non rollare soprattutto nelle acque dei fiumi che sono turbolente insomma questo ancora non lo sappiamo e forse non lo scopriremo mai perché non vedremo mai uno spinosauro vivo questo è il problema e vabbè però noi quando siamo stati anzi continuiamo ad andarci perché dobbiamo ancora al prossimo novembre torneremo in questo posto perché ci mancano ancora dei pezzi del puzzle abbiamo trovato tantissime ossa ma tante 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 è vero che questo scheletro ormai è più completo di quello di Stromer questo neotipo l'abbiamo chiamato tecnicamente vuol dire l'esemplare di rappresentanza è la nuova carta d'identità dello spinosauro però è nuovo perché abbiamo perso l'olotipo e qui il team si è allargato sempre di più martello pneumatico perché roccia durissima quella che ricopre quella che ricopre lo strato perché poi lo strato per fortuna aveva sia sopra che sotto della sabbia quindi quello era utile era facile da scavare però la parte sopra era estremamente complessa da togliere ne abbiamo tirate via tonnellate e tonnellate di roccia sotto lì c'è scritta una cosa una cosa anzi il cui risultato abbiamo anche qui davanti adesso lo vediamo meglio questa è veramente una cosa che non ci si aspettava nessuno questa è una stampa 3D di una vertebra della coda della coda del neotipo e cosa c'è in questa coda ci sono delle vertebre abbastanza compatte ma sono sormontate quello che non ci aspettavamo era trovare questo questo non è un fake perché adesso vi mostro le foto vere eh attenzio qui addirittura vedete una delle prime vertebre che stanno alla base della coda ancora nello strato sabbioso con una laminazione con una laminazione finissima che indica che queste ossa si sono depositate nel letto di un fiume probabilmente in un'ansa dove l'acqua rallentava la corrente e qui vedete le foto della primissima vertebra la primissima che era proprio nell'angolo dello scavo cioè a un certo punto e siamo ritrovati 4 metri 5 metri di roccia sopra di noi non avevamo il tempo di sbancarla perché ovviamente era l'ultimo giorno di quell'anno lì o il penultimo allora abbiamo cominciato a scavare una nicchia vedete là nella foto A in alto una nicchia per recuperare la punta solo che queste vertebre erano fragilissime appena scava scava ma non finiva mai cosa succede che appena il sole le comincia a scaldare vertebrava bene poi dopo però andava avanti no ma c'era anche un problema proprio di conservazione e recupero sì perché le ossa al sole dopo milioni di anni sono lì da milioni di anni tu sei il primo ad avere l'onore di tirarle fuori quindi ci vuole un certo rispetto per i tempi della natura e per il dono sì per il dono e che cosa facevamo a un certo punto abbiamo elaborato una strategia noi ci portavamo su alla mattina in questo luogo dove si poteva andare soltanto a piedi 4-5 bottiglie da 2 litri ciascuna di acqua perché lì c'è il rischio di disidratarsi fino a 40 gradi sempre con l'aria non ti accorgi il tuo corpo è un frammento vivo all'interno di un deserto immenso e la tua umidità il deserto te la risucchia fuori è una sensazione vertiginosa particolare difficile da spiegare ma sì ho cercato di raccontarla nel capitolo l'ultimo capitolo di un libro che ho scritto con mio figlio che si chiama i dinosauri raccontati a mio figlio quando avevo 8 anni lui mi faceva le domande e io gli ho risposto lo trovate questo libro e qui c'è un riassunto per immagini di quello che facevamo tutti i giorni ci arrampicavamo lì dovremo rifarlo a novembre però sarà più fresco insomma ci continuo a fare il caldo che c'è qua insomma perché l'anno scorso non era freschissimo siamo stati sempre a novembre allora le ossa le ossa fragili scusate continuo a guardare qua perché ho il monitor ma lì le vedete le ossa fragili le ricopriamo con il gesso come quando uno si rompe una gamba si fa un guscio di gesso intorno però erano tantissime perché a un certo punto abbiamo cominciato a trovare una vertebra della coda dietro l'altra continuamente una caudale e un'altra caudale it's another caudale it's the final countdown no continuavano ad arrivare finivano mai e ce la cantavamo questa canzone qua degli Europe cambiando le parole cambiando le parole ogni volta che ne trovavamo una abbiamo deciso che le bottiglie anziché abbandonarle lì perché poi i nostri autisti marocchini gli davano fuoco inquinando l'aria le riutilizzavamo abbiamo cominciato a tagliare le bottiglie e aprendole le usavamo come involucri di protezione delle spine lunghissime di ogni vertebra numerandole portarle via così era quasi impossibile sì poi le mettevi nello zaino e il risultato che a un certo punto ci siamo ritrovati davanti dopo averle ripulite dal sedimento grazie all'aiuto anche di preparatori marocchini è quello che vedete su questo tavolo all'università di Casablanca la coda la prima coda quasi completa incredibilmente completa ci mancano soltanto 8-10 vertebre della punta di uno spinosauro non è una coda da dinosauro teropode non è una coda a cono com'è fatta sta coda? un altro pezzo del disegno di Stromer da cancellare e da rifare eccolo qua è una coda alta e piatta che guarda caso assomiglia di più a quella di un girino o di un tritone che è quella di qualsiasi altro animale ed è così che arriviamo al 2020 e pubblichiamo su Nature con tanto di copertina la ridescrizione del neotipo con un titolo molto esplicativo cioè questa coda serviva come organo di propulsione in acqua e noi ne siamo convinti anche perché abbiamo fatto delle prove sperimentali vedremo poi un video fatto all'università di Berkeley dai nostri coautori dove si testa la capacità di spinta della coda lo spinosauro quindi cambia nuovamente aspetto e non c'è più l'enigma del bipede quadrupede ormai anzi ancora a maggior ragione rispetto allo scavo dell'anno scorso perché in questo disegno qui mancano ancora 5 o 6 vertebre sempre della coda che sono saltate fuori l'anno scorso quindi dobbiamo allungare la coda ancora di più e questo ci permette di fare da baricentro da contrappeso rispetto al baricentro che prima avevamo messo davanti alle ginocchia quindi spostare leggermente più indietro il baricentro più vicino al bacino questo è una cosa che perché la coda è molto più pesante di quello che si pensava ecco allora siccome non eravamo contenti dello scheletro fatto in Canada nel 2014 avevo detto quello scheletro è sbagliato bisogna farne uno nuovo allora Diego e altri tre pazzi si sono messi in casa loro diciamolo eh sì a stampare di nuovo tutto lo spinosauro osso per osso perché nel frattempo abbiamo fatto le fotogrammetrie quindi abbiamo importato dei file 3D da tutte le ossa lasciandole a Casablanca e portandocele nei computer che poi magari stampare osso per osso ma un pezzo di osso alla volta sì perché siccome l'hanno fatto nel garage sì non c'erano delle stampanti gigantesche stampano 40 per 40 non di più e quindi le spine quelle più grandi erano in 7-8 pezzi ma anche qui dove vediamo al centro Gabriele Bindellini che ha fatto le stampe che ha fatto le stampe quelle ossa lì quanti pezzi sono Diego in realtà stampate le ossa della gamba quelle della gamba sono tipo tre pezzi il femore e forse tre pezzi la tibia e l'ulna e la fibula questo è il risultato facciamo un applauso a questi ragazzi grazie perché questo scheletro non è che se lo sono tenuti in giardino l'ha comprato il museo di Chicago non so se spiego e quello precedente dove è andato? quello precedente è stato alla mostra di Hong Kong e adesso penso che seguirà ancora la mostra di Big 8 si chiama questa mostra i grandi otto che girerà per altri posti il prossimo questa è una promessa che fa davanti a tutti voi ma no gliela strappo perché tanto è già programmato quindi non puoi fare a meno il prossimo va al museo di Milano nella sala dei dinosauri lo facciamo fra tre o quattro anni però lo facciamo però lo facciamo sì 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 assolutamente e adesso vai col video che vi riassume tutta questa incredibile avventura non ancora finita nel deserto del Sahara commentiamolo un po' questa è la strada che facevamo in macchina ovviamente per raggiungere il posto dove potevamo lasciare le macchine perché poi c'era ancora almeno altri un'ora a piedi tutte le mattine ecco un'ora per arrivare al sito dello scavo questa è la vista dal sito dello scavo qui vedete in parte a scavare in parte ancora a setacciare il detrito perché il detrito continuiamo a setacciarlo perché può sempre saltare fuori qualcosa di utile anche da lì perché molto probabilmente gran parte dello scheletro appunto è stato perso tra virgolette è stato accumulato nel detrito sottostante e qui anche con l'aiuto di martelli pneumatici però mica sopra le ossa questi martelli scusa diciamo abbiamo tirato via con i martelli pneumatici poi la cosa curiosa è che i marocchini con i martelli pneumatici tenevano firma la punta con l'alluce del primo dito ok questo sono io che sto setacciando il detrito però appunto per raggiungere lo strato nello strato poi bisognava scavare con un'altra con un'attenzione completamente diversa addirittura a volte solo con i pennelli per togliere la parte più vicina all'osso qui guardate due vertebre ancora ravvicinate della coda esatto articolate e qui vediamo stiamo prima ricoprendo con la carta e poi gli mettiamo sopra l'involucro in gesso come sta facendo come vedete qua per permetterci appunto poi di andare a scavare sotto e di estrarle mantenendo però la alcune sono molto robuste però e le possiamo tirare via come queste della caviglia intere senza gesso qui siamo all'università di Casablanca dove abbiamo ricomposto in posizione anatomica tutte le ossa il numero non ce l'avevano abbiamo dovuto metterle in ordine dalla più grande alla più piccola non è stato semplice mettere tutti i frammentini delle spine perché ogni vertebra è composta da tanti pezzi vedete Marco Auditore qui che disegna tutti gli scheletri che pubblichiamo esatto un ottimo paleartista un ottimo disegnatore scheletrico diciamo così Simone Maganucco che prende appunti sul cambiamento che hanno lungo la coda le vertebre perché le prime sono più grandi e massicce servivano per ancorare diciamo ancorare muscoli potenti che permettevano poi il movimento laterale della coda le prime vertebre non hanno spine così lunghe hanno spine leggermente più piccole ma hanno anche delle spine laterali che la vedete lì la vertebra questa è l'ultima l'ultima che abbiamo lì nel disegno per ora ma ne troveremo qualcun'altra vedrete e questo è come lo spinosauro è stato ricostruito adesso cambiandogli appunto la coda perché non ha più quella coda da teropode che ci si aspettava avesse e qui lo vediamo nel suo ambiente naturale così come nuotava fondamentalmente qui invece vediamo Gabriele Bindellini che sta facendo le fotogrammetrie in parte ne ho fatte alcune anch'io questa è la vertebra una delle prime vertebre della coda in cui si vede questa struttura a croce che sia proprio come ancoraggio cioè vuoi dire che per avere un file così devi fare più di 100 120 fotografie ma anche di più esatto esattamente girandoci intorno girandoci intorno prendendo tutti i punti possibili immaginabili e appunto dicevo quella struttura a croce serviva per l'ancoraggio dei muscoli che permettevano lo spostamento laterale della coda e qui vediamo un esempio della stampa di una delle delle vertebre diciamo posteriori diciamo della coda in cui si vede molto bene la spina e questa invece è la prova di idrodinamicità potremmo dire così quindi di spinta della coda fatta all'università di Berkeley che è stata confrontata poi con la spinta che potevano dare altre code di altri dinosauri e questa è quella che ha dato la spinta maggiore questa è una prova fatta nella galleria dell'acqua nella galleria del vento esatto non del vento ma dell'acqua esattamente e questa è un'animazione bellissima prodotta sempre da paleoartisti italiani un grosso lavoro qui di Fabio Manucci tanto che questo video poi se l'è preso National Geographic per promuovere la scoperta ulteriore sul sito DNG e vedete uno spinosauro che nuota in un fiume in un fiume d'acqua dolce acqua dolce non c'è ancora nessuna prova che potessero andare in acqua marina no diciamo che proprio anche ciò che si vede nelle rocce che nella matrice che ingloba i fossili si vedono queste laminazioni incrociate tipiche di ambienti fluviali quindi siamo abbastanza sicuri che fossero fiumi diciamo c'è poco da discutere sul fatto che fossero fiumi o piuttosto che mare però è a tutti gli effetti un fiume grazie a tutti eccolo qui grazie grazie mille a tutti quanti se ci sono domande noi abbiamo ancora un quarto d'ora prego grazie per questa interessantissima storia affascinante grazie a voi dunque se io ho ben capito diciamo lo spinosauro potrebbe essere il precursore dei coccodrilli mentre invece no mentre invece i dinosauri avrebbero generato successivamente gli uccelli ma praticamente tutta la famiglia dei dinosauri anche dello spinosauro da dove si sono originate grazie possiamo dire che in realtà i coccodrilli c'erano c'è una parentela tra dinosauri e coccodrilli ma molto indietro nel tempo dobbiamo andare all'inizio del triassico quindi i rettili che hanno poi dato origine ai coccodrilli che stanno intorno a noi non erano ancora dinosauri erano un antenato erano antenati comuni di coccodrilli e dinosauri alcuni tra l'altro i coccodrilli nel passato questa domanda permette di spiegare una cosa interessante noi oggi conosciamo i coccodrilli come animali quasi completamente acquatici o molto legati all'acqua con la pancia pesante appoggiata per terra zampe corte e messe di lato rispetto al corte ma nel passato i coccodrilli compresi gli antenati dei dinosauri erano molto più diversificati ed erano animali anche molto agili c'erano dovete immaginarvi i primi antenati dei coccodrilli come dei con le zampe messe sotto il corpo come un cane che trotta sì esatto c'erano anche dei coccodrilli bipedi che erano diventati bipedi prima dei dinosauri quindi quei coccodrilli lì non stavano nell'acqua se ne stavano belli tranquilli in giro tranquilli non erano tanto tranquilli né loro né quelli che cacciavano erano dei predatori apicali quindi in alto nella catena alimentare abbiamo trovato anche le loro tracce fossili anche in Italia sia sotto forma di orme che sotto forma di scheletri per esempio c'è un fossile trovato vicino a Varese che si chiama Ticino succus che è un coccodrillo morfo molto evoluto è un Raui succhide ed è camminava con gli arti messi bene sotto il corpo e questo è testimoniato da orme fossili che si chiamano Chiroterium che forse Chiroterium anzi che probabilmente sono prodotte da animali così e non c'è la scia della coda no nelle orme delle zampe quindi le tenevano sollevate da terra diciamo che magari questi adattamenti che ha avuto Spinosauro sono stati degli adattamenti successivi dei nuovi adattamenti che gli hanno permesso di cambiare quello che era il suo ambiente di caccia e si è adattato col passare del tempo ovviamente non una settimana ma ci vogliono milioni di anni però si è adattato a questo nuovo ambiente che gli ha permesso appunto di allontanarsi da quello che era la terraferma dove c'erano già altri predatori e potersi poter poi andare a cacciare e a sopravvivere diciamo in un ambiente molto diverso da quello che era il suo iniziale in sostanza tra coccodilli e Spinosauri non c'è una parentela c'è una somiglianza di forma esatto e i coccodrilli di oggi sono dei nobili decaduti perché i loro antenati ne combinarono eh sì molte di più ci sono altre domande c'è una domanda lì grazie dalle prove fossili che avete scoperto sembra che lo Spinosauri sia un animale prettamente acquatico giusto ma avete qualche prova nel magari dove depoteva le uova o dove si accoppiava che aveva anche su terraferma magari anche guardando l'albero filogenetico con i suoi antenati per capire un po' i comportamenti comuni grazie ma dire che è sicuramente ha degli adattamenti acquatici molto importanti però non non arriveremmo a definirlo un animale totalmente acquatico cioè è un animale che ha la capacità di cacciare in acqua sa nuotare sa nuotare molto molto bene però molto probabilmente dobbiamo immaginarci che le uova le deponesse sulla terraferma che avesse tante abitudini legate alla terraferma perché come ho detto all'inizio i dinosauri non sono animali acquatici ok quindi è vero lui ha una posizione un po' particolare perché è un animale terrestre ma molto adattato alla vita acquatica però in realtà quello che possiamo ipotizzare è che a parte la caccia e altro ma il resto fosse legato alla terraferma del resto gli arti anteriori e posteriori non sono ridotti ad un grado tale da far pensare che di lì a poco sarebbero diventati pinne come è successo nei cetacei sono arti ancora molto funzionali con una muscolatura perfettamente sviluppata ma diciamo non per correre o stare tantissimo in piedi fuori dall'acqua si sente? c'è una domanda là si sente? ecco volevo chiedere la cresta aveva importanza per la mobilità per la direzione nell'acqua aveva mobilità la cresta secondo voi non è articolata no no capito la domanda non è articolata quindi non si poteva muovere ovviamente se piegava leggermente la schiena la vela si curvava leggermente però come dicevamo prima una delle possibili funzioni era evitare il rollio nell'acqua cioè il ribaltamento ecco potremmo dire così questo potrebbe essere un'idea anche nella coda le spine allungate sono saldate alla vertebra non c'è uno snodo questo voleva chiedere non c'è uno snodo fanno parte dell'arco neurale esatto anche noi abbiamo le spine neurali sulla schiena se ci tocchiamo sono molto corte ma queste spine non sono articolate non si snodano questo è uno dei problemi cioè se usciva dall'acqua e cadeva di lato ma probabilmente no cosa succedeva a quella schiena non sappiamo bene probabilmente no però sicuramente il resto del corpo pesava più della vela quindi questo lo aiutava a mantenere c'è un problema meccanico di resistenza sicuramente sì per quello che io sono incline cioè lo vedo bene più a suo agio in acqua certo quello assolutamente più la quantità di adattamenti che ha l'acqua con una vita diciamo anfibia sì definiamo l'anfibia tra virgolette vabbè qua c'è lavoro anche per i paleontologi del futuro perché magari noi ce ne andremo senza aver capito la funzione della vela la pazienza ma perché si chiama sui libri il lagone egiziano se poi è stato rizzovato nella zona del Marocco bella domanda bella domanda allora in realtà la prima volta che è stato trovato è stato trovato in Egitto quindi queste grosse vertebre con queste spine l'hanno trovato in Egitto e l'hanno chiamato il rettile con le spine proveniente dall'Egitto quindi Spinosaurus Egyptiacus questo è il significato però poi come dicevamo è stato trovato in gran parte della Nord Africa ma allora non si sapeva pensavano fosse solo lì e quindi gli hanno dato questo nome ci teniamo il nome che gli è stato dato perché è il nome perché ci sono delle regole zoologiche nel dare i nomi che bisogna rispettare quando uno scienziato anche uno zoologo trova un nuovo animale e lo battezza con un nome scientifico quel nome non può essere cambiato deve essere di due parti una legge di priorità si dice la prima volta che viene dato questo nome gli resta per cui il primo è stato trovato in Egitto e adesso chiamiamo Egyptiacus anche lo Spinosauro trovato in Marocco perché non crediamo che sia una specie diversa potrebbe succedere che scopriamo che ci sono degli Spinosauri marocchini e questo l'ha già fatto un nostro predecessore c'è un collega francese che a un certo punto ha battezzato una specie che si chiama Spinosaurus maroccanus però noi crediamo che lo Spinosaurus maroccanus sia sempre l'Egyptiacus lo stesso perché non ci sono differenze sufficienti allo stato attuale delle nostre conoscenze non troviamo differenze così importanti tra quelli trovati in Egitto e quelli trovati in Marocco per dire che sono specie diverse adesso per il momento restano Spinosaurus egyptiacus volevo fare una domanda riguardo a una specie che sia voluta appunto nello stesso luogo in cui è stato ritrovato anche lo Spinosauro però avete mostrato l'immagine in cui avete parlato in cui appunto venivano mostrati vari animali che hanno evoluto si sono evoluti hanno sviluppato una vela e tra questi c'è l'Uranosaurus appunto un adrosauride che è stato ritrovato nella stessa regione di Spinosaurus mi domanda mi domanda mi domanda appunto il collegamento a livello geografico insomma se ci fosse un motivo per cui queste due specie si sono evolute cioè hanno evoluto una caratteristica così simile pur appunto essendo distanti a livello filogenetico bella domanda sì questo ce lo siamo chiesti anche noi paleontologi tante volte perché gli adrosauri sono dinosauri ornitischi lo diciamo per una struttura diversa che appartengono proprio ad un ordine diverso un ramo diverso ci sono due principali rami di dinosauri i saurischi e gli ornitischi nei saurischi ci sono i teropodi che sono includono anche gli spinosauri spinosauro esatto ma l'uranosauro è un adrosauro no è un iguanodontide vabbè siamo lì siamo sì forse più un iguanodontide adesso è classificato è un dinosauro al bivoro che va verso la linea evolutiva dei dinosauri a becco d'anatra quindi è molto diverso però ha questa schiena con una vela sostenuta da spine neurali quindi le stesse ossa di forma molto simile ma in passato quando si pensava che la vela degli spinosauri servisse come scambiatore di calore qualche paleontologo ha ipotizzato che il nord Africa fosse un posto particolarmente difficile come clima che obbligasse i dinosauri a sviluppare delle strategie particolari strutture particolari per scambiare calore come dire ho troppo caldo mi devo raffreddare ho troppo freddo mi devo riscaldare però allora tutti gli altri dinosauri che vivevano lì in realtà non l'hanno sviluppata esatto quindi il dire che vivevano nello stesso posto nello stesso momento geologico non basta per spiegare lo sviluppo di strutture dorsali simili come abbiamo visto sono strutture che hanno anche tantissimi altri rettili anche rettili nel permiano nel senso avevano vele eccetera anche non dinosauri anche non dinosauri esattamente quindi dimetrodonti esatto avere questa caratteristica non per forza li lega in un rapporto filogenetico ecco questo no qui c'è una domanda e forse c'è anche un signore qui davanti scusate imbarazzante che cosa sarebbe successo se lo spinosauro fosse sopravvissuto all'estinzione e se il meteore non fosse caduto allora che domandona allora il meteorite non ha diciamo non influenza non ha influenzato la storia degli spinosauri perché sono spariti tutti 40 milioni di anni prima che cadesse il meteorite esatto erano già estinti gli spinosauri però lui giustamente chiede ma se invece gli spinosauri fossero andati avanti nella loro evoluzione innanzitutto posso estendere la tua domanda come sarebbero diventati questa è una bella domanda dai prova a dare tu una risposta Diego a questo poi aggiungo io grazie per avermi dato questa cosa semplice da dire no allora sicuramente dovremmo stare molto più attenti a passeggiare per i fiumi del nord Africa perché sicuramente se ci fossero ancora sarebbe un problema no aspetta però dobbiamo fare finta che i fiumi restino perché se no non ha tempo esatto però se i fiumi fossero rimasti forse possiamo immaginarci che si sarebbero magari adattati ancora di più all'ambiente acquatico quindi come si diceva prima le sue zampe adesso hanno ancora una struttura estremamente funzionale anche per sopportare l'animale fuori dall'acqua ma magari se fossero sopravvissuti forse avrebbero perso quella caratteristica si sarebbero ridotte rimpicciolite per dargli la possibilità di essere sempre più adatto all'ambiente acquatico possiamo dire le sue zampe posteriori già con la struttura muscolare che ha gli permettevano di pagaiare un po' come fanno le anatre quindi di fare questa spinta nella parte posteriore poi la struttura un piede piatto probabilmente ce lo possiamo anche immaginare palmato questo piede perché no quindi magari con il tempo sarebbero diventati sempre più adattati all'ambiente acquatico e magari sarebbero diventati i rettili acquatici del tutto i vertebrati e anche i rettili tantissime volte sono tornati in acqua diciamo tornati perché gli antenati dei rettili esatto sono usciti dall'acqua cioè gli anfibi quindi gli spinosauri avrebbero potuto diventare un po' quasi come i mimosasauri esatto magari sarebbero avvicinati sempre di più a questo tipo di animale vai altre due non so se c'è ancora tanto tempo perché qua una domanda solo una domanda c'era lui che dai veloci due c'è un signore qua davanti che dall'inizio sì siamo due che veloci io in realtà avevo due domande velocissime ne faccio una voi prima avete nominato il carcarodontosauro che mi riporta un po' la mente lo squalo anche questo dinosauro era tendenzialmente acquatico o non c'entra no per nulla i denti si chiamano cioè si chiama così perché ha dei denti seghettati molto simili a quelli degli squali carcarodontosauro vuol dire dinosauro con i denti da squalo questa è la traduzione del nome proprio perché ha una seghettatura sui denti estremamente importante come per degli squali l'abbiamo visto era proprio terrico però era sì volevo capire volevo capire se a livello geografico cioè l'Africa aveva un territorio diverso rispetto a quello attuale cioè visto che c'erano tutti questi fiumi che immagino fossero molto profondi c'erano una bella portata d'acqua volevo sapere se appunto c'era solo l'Atlante o c'erano altre catene montuose no l'Atlante non c'era ancora perché si è formato dopo insieme alle Alpi di Orogenesi l'Orogenesi dell'Atlante l'Orogenesi alpina è successiva a quei momenti proprio a causa dello spostamento delle placche tettoniche in quel periodo la parte diciamo nord dell'Africa era in realtà un sistema fluviale estremamente complesso ma questo lo vediamo proprio dalle strutture che noi troviamo negli strati che andiamo ad esaminare quando scaviamo proprio perché si vedono quelle tipiche disposizioni delle sabbie che si vedono oggi nei fiumi se andiamo oggi in un fiume e è vero che adesso è sabbia non possiamo fare la sezione però se potessimo fare una sezione vedremmo esattamente gli stessi tipici disegni e questo ci permette di dire che sono strutture fluviali anche molto grandi anche molto grandi proprio per questo motivo qua grazie ancora grazie mille a tutti grazie a Cristiano D'Assasso grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti Grazie a tutti